Questa è la fantastica piazza Cavour a Ancona, la settimana d'agosto, deserto completo. Penso che in Italia esista una piazza Cavour ovunque. Qua dove viene posizionata la ruota panoramica durante le festività natalizie, di là vediamo il palazzo a Rio Giolemarchia, il corso. Piazza Cavour, Ancona. Piazza Cavour. Piazza Cavour. Piazza Cavour. Piazza Cavour.